Musica Si occupa di realizzare i disegni delle DTAC i disegni che vengono realizzati dai Centro Stile Caromeo, Centro Stile Lancia, così e poi noi realizziamo il prodotto e lo mettiamo su strada. Quindi noi lavoriamo in stretta collaborazione con i Centro Stile e riusciamo a realizzare un prodotto made in Italy al 100% che da massima soddisfazione soprattutto riprende i tratti distintivi della macchina. Quella che vi vedete qua è una 4C, è un 4 rovesciato con il tubo fatto a C. È una novità assoluta in campo mondiale, disegnata come dice prima da Centro Stile Caromeo e si abbina la macchina a 4C. Il telaio carbonio fatto a mano proprio seria limitata ed è veramente molto bello. Quella là è la 8C che riprende esattamente la fiancata della macchina. Sono una 4C, è una 6C. No, sufficientemente hanno che realizzano i tratti distintivi del brand. Anche non so il bambino del 12 se lei vede proprio il colore dell'altro. Lei vede la schicca però non sono male. Ecco, questi prodotti che io direi sono oggetti veramente di design sul mondo di invidia, che danno tantissima condizione perché proprio arricchendono l'alba. Come è venuta la conoscenza del Club Stilio Alparomeo? Il Club Stilio Alparomeo è un club molto accreditato, molto bravo, sono stati nazi molto qualificati, c'è tanto da fare e sono stata... M'hanno invitato, li conoscevo già, mi hanno invitato e sono stata volentieri qui. Ha un messaggio da dare a Stilio Alparomeo? Di continuare così, se la faccio, perché veramente stanno facendo delle cose veramente eccezionatiche. Sì, perché poi il brand ha bisogno, di sempre come noi, sono molto seri, molto bravi, e poi hanno una passione, è davvero un brand veramente, ha tutto il cuore. Grazie, grazie a lei, grazie, buona gara. Grazie.